Ermal Meta contro GF, la frecciatina a Cecilia e Ignazio per piccolanima Ermal Meta pubblica una frecciatina contro Cecilia e Ignazio dopo il video con piccolanima. Ermal Meta non ha preso affatto bene una decisione presa dal grande fratello Vip. Il programma ha deciso di mandare in onda un filmato riguardante Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avente come sottofondo il brano Piccole Anima. Il brano di Ermal Meta è stato associato alla storia d'amore nata nella casa tra Cecilia e Ignazio. E' proprio questo che il cantante non è riuscito ad accettare. . E lui stesso a comunicarlo ai suoi fan, attraverso l'account Instagram. . Ermal ha condiviso una battuta proprio sul famoso armadio. . Ricordiamo, infatti, che nelle ultime settimane il gossip è impazzito con la storia dell'armadio, dove Cecilia e Ignazio si sarebbero appartati. . L'immaginazione del pubblico ha superato ogni ostacolo, tanto che la Rodriguez ha dovuto più volte replicare alle forti accuse. . Intanto, però, Ermal sembra non aver preso affatto bene la decisione della produzione. . Il cantante pare non sia riuscito a comprendere l'associazione tra il brano Piccole Anima e la storia di Cecilia e Ignazio. . . Ermal Meta ironizza sull'armadio del grande fratello Vip. . 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 Una replica da parte di Cecilia Rodriguez o Ignazio Moser. Nel frattempo, la coppia nata al grande fratello Vipa ha già condiviso la prima foto insieme. L'Argentina già da qualche giorno è tornata sui social e ora renderà partecipi fan della sua nuova vita con il Moser? Non ci resta che attendere per scoprire come proseguirà questa storia d'amore. Grazie a tutti.